C'è un'idea mia, quella che vede anche in musica, proprio per il fatto del bimbo, e mi piaceva minare il discorso guardo con la musica e la musica troppo la gente, ma a queste cose non mi consono sempre da portare a tutti, nemmeno alla curiosità di tutti, invece è sempre tra i messi e curiosi. C'ho trovato con la Maggiammina, è stato un risultato, perché comunque nelle serate rifacciate con la Maggiammina ma adesso siamo con il palco di quadri, quindi è una cosa un po' diversa che è piaciuta. Proviamo a fare in piccolo, è una cosa un po' diversa, quindi va avanti il discorso dei quadri e va avanti il discorso dei progetti. Questi tre sono nuovi, tra l'altro, quindi sono per la prima volta presentati in queste serate qui, mai ancora fatte. Sul primo addirittura ci stanno ancora lavorando, uomini in concerto dove sono altre donne, io Veronica Ferraro è una tramentante. Non me le donne mi hanno parlato. No, perché sono così, ma proprio perché le donne sono importanti. Perché hanno un grande musicista età, le meritano tantissimo, e stiamo cercando di fare una cosa un po' particolare, quindi stiamo creando il territorio che sono donne, ovviamente, italiani straniere, grazie, non sono più conosciute ma anche più belle, e tutte le arrangiate solo abbiamo fatto le due voci. Quindi ci sarà un lavoro un po' particolare tra le due voci, mia e sua, completamente differente da l'altro, e sarà anche carino vedere questa differenza. e le altre prime musicali poi le sentirete anche se ci saranno in certi incontri, prima di questi dati, capiteranno e pur nel contesto di incontri diversi avranno il loro spazio per dare queste pillole. per dare uno o due tessi per farvi capire. E all'interno di questo concetto escono tre quadri, con tre artiste che seguiremo. Quindi non ho ancora deciso quali perché ci sto lavorando, però saranno andato a presa anche questa. Mentre il secondo, anche questo è molto bello, con Alessandro Colini, violino, e la chiesa di Paul Battistini, che è stato grandissimo tra l'altro. Paul Battere Candi e Roma Giannina. Questa è una cosa completamente diversa, dove propone un repartore di cantatori italiani, esclusivamente da canta, e non 50 ad oggi, quindi Paolo Ponte, Giro Paoli, un po' di questi uomini grandi, ma anche donne. E anche qui ci saranno nell'esposizione tre quadri inerenti progetti che proponiamo, e il terzo invece è Musica da Film, coperita sempre meno forte, e Alessandro Colini e Pelino, dove anche qui faremo dei classici musica da film, quindi è un raccettore classicissimo da Amore Buone, Perfetto è Bello con i più umani, e tanti altri, con delle immagini, delle copertine, dei film più importanti, che bisogna portare anche lui, per fare una cosa equa, perché c'è un po' molto limitato, io, in questo periodo. Quindi, niente, questa è la forza. La comunità, sì, come vi siete? La comunità della comunità, si nasce da questi eventi, dovevamo fare un concerto per loro, e poi per gli eventi, e cose che non sono potute andare come dovevano, abbiamo dovuto lanciare e rimandare, e quindi, niente, questa volta, ho iniziato a pensare a questa cosa, con molto creda, l'abbiamo visto tra l'altro, da parte dell'unità, da tantissimo tempo, e quindi, ci siamo consultati, abbiamo deciso di proporre questa cosa, e io penso che sia una scelta migliore.